Vorrei sapere se esiste uno studio che dimostri in modo incontrovertibile che chi si limiti a criticare le tesi altrui, distorcendole vistosamente, banalizzandole e usando solo la pura retorica, lo faccia perché non abbia argomenti validi sul piano dialettico da contrapporre alle tesi che vorrebbe screditare. Soprattutto se tali scorrettezze vengono amplificate allorché chi le attui riceva delle confutazioni e delle smentite in riferimento alle sue affermazioni fanaticanti, se non è stato attuato questo tipo di studio mi auguro che venga fatto alla svelta.